Siamo arrivati in questa trasmissione Camerota di parte in forma dopo un'altra questa pausa dovuta al periodo estivo. Continuiamo nel nostro percorso di informazione e soprattutto di discussione sulle varie problematiche del Comune di Camerota e mi tocca l'obbligo di ritornare su un argomento importante, un argomento trattato in questi studi qualche giorno fa dal sindaco di Camerota, rispetto al quale mi sarei aspettato una risposta su un'eventuale soluzione da dare al problema della scuola, quindi alla chiusura del plesso scolastico di Camerota. Anche perché è giusto fare una successione di date, ma soprattutto la tempistica con cui si è agito da parte dell'amministrazione comunale. Innanzitutto voglio ricordare che la scuola ha un problema così importante, non è né di destra né di sinistra e è un problema che investe il sottoscritto prima come genitore e poi come consigliere comunale, quindi da parte sua mi sarei aspettato invece, anziché venire in questi studi a fare l'ennesimo comizio, mi sarei aspettato una risposta, ma soprattutto mi sarei aspettato che lui prospettasse delle soluzioni rispetto al problema della scuola di Camerota. E andiamo avanti con la successione dei fatti. Allora innanzitutto voglio ricordare che l'obbligo dell'agibilità dei pressi scolastici c'era una deroga scaduta il 31-12-2017, quindi il sindaco dice la prima inesattezza quando dice nel mese di settembre. No, lui ha avuto la prima comunicazione inviata al comune di Camerota, quindi al sindaco del comune di Camerota e al prefetto di Salerno già l'8 di gennaio 2018. Quindi a distanza di nove mesi, dopo che la preside, quindi il dirigente scolastico di Camerota ha reiterato questo invito, il comune si è preoccupato soltanto in data 20 di settembre 2018, di effettuare un sopralluogo con delle indagini strutturali dell'istituto comprensivo di Camerota. Quindi questa è la prima inesattezza, perché sappiamo bene anche il passaggio fatto quasi come se il problema venisse da lontano. Il problema sicuramente appartiene a tantissimi plessi scolastici di tantissimi comuni italiani, però quello che io discuto, ma soprattutto quello che va chiarito è che questa deroga era fino al 31-12-2017, invece non vi è traccia in questi nove mesi di nessuna azione messa in campo da parte dell'amministrazione Scarpitta rispetto al plesso di Camerota. E infatti i dati parlano chiari, perché qui ho con me il rapporto di prova che viene commissionato alla Geotecna SRL il 20 settembre 2018. È chiaro che anche sulla polemica innescata sempre in questa trasmissione, io mi asserrò dal commentare il tono, ma soprattutto le modalità da campagna elettorale che ancora una volta il sindaco fa in ogni occasione, ma io penso che un sindaco debba innanzitutto dare delle risposte da un punto di vista amministrativo e poi è chiaro che quando si tratta della sicurezza dei plessi scolastici noi abbiamo polemizzato nella misura in cui lui ha dichiarato che venivano aperti i plessi scolastici con una settimana di ritardo e questo ritardo, questo posticipo dell'apertura delle scuole era in funzione ai flussi turistici, era in funzione di un discorso di destagionalizzazione, ma sappiamo bene che non solo le cose non sono andate così, ma se questo aspetto viene limitato soltanto al comune di Camerota, mi sembra veramente ridicolo parlare di destagionalizzazione e parlare chiaramente di flussi turistici, perché questo intervento deve essere fatto soprattutto a livello regionale e esteso anche ad altre regioni, perché su questo sono anche io d'accordo, però è chiaro che non si può parlare di destagionalizzazione limitata soltanto al comune, quindi al posticipo delle elezioni soltanto al comune di Camerota. Poi fa una serie di passaggi che francamente ritengo che da parte di un sindaco, come ho poc'anzi detto, mi sarei aspettato delle soluzioni, ma lui in questa sede non ha dato nessuna soluzione, anche perché voglio ricordare il plesso di Camerota in una richiesta di finanziamento è l'unico plesso che è rimasto fuori da questa richiesta di finanziamento, ma questo si collega anche a cose più volte dette in questa trasmissione, cioè che questa amministrazione si caratterizza per l'assenza di progettualità e questa ne è una riprova a prescindere dalla condingenza del momento, quindi di un problema che sicuramente ha ereditato, ma a distanza di un anno e mezzo, quasi due anni di amministrazione, ancora non si può giustificare ogni cosa parlando di eredità, perché ogni amministrazione, anche il governo centrale ha ereditato una situazione di governi precedenti, ma oggi è il momento di agire, un sindaco non può rispondere e additare sempre il dito contro chi lo ha preceduto, anche perché nel suo intervento non parla, come al solito, dei cinque anni che hanno visti al governo suo cugino, che è stato il suo principale sponsor e il suo mentore politico, quindi mi meraviglio che anche rispetto a questo suo rapporto, a questo suo suggeritore che ormai non è più un suggeritore occulto, non fa mai un cenno e sembra quasi che i cinque anni che ci hanno visto insieme dai banchi di opposizione non si trova nessuna traccia nelle parole dell'attuale sindaco dei cinque anni di amministrazione di suo cugino Antonio Romano. Poi un piccolo passaggio va anche sul resto, perché io nel 2010 non ero assolutamente vice sindaco, io sono diventato vice sindaco nel marzo 2011, quando anche lui ritenne, soprattutto perché riteneva che quell'amministrazione fosse caratterizzata da una rivoluzione, entrò in quella maggioranza ed era assessore anche lui. Lui ogni volta parla del sottoscritto quasi quasi lo fa figurare come un amministratore di vecchio corso. Sì è vero, io sono stato consigliere comunale, ma sono stato assessore per soli due anni e mezzo, quindi questo lo voglio precisare e lui è consigliere comunale dal 2009. Quindi tutta questa alone di rinnovamento, di cambiamento, ma francamente nei metodi e nel modo di approcciarsi io francamente non lo vedo questo cambiamento perché per come in ogni occasione appare come l'innovatore, quasi come se il passato non gli appartenesse, ma lui viene da un'esperienza politica di nove anni, quindi voglio dire non si può tirare indietro rispetto ad alcune responsabilità. Poi per quanto riguarda il confronto pubblico, io lo dico con estrema chiarezza e tranquillità, io sono disponibile in qualsiasi momento anche perché ci ho accusato che questi argomenti vanno ricondotti in quello che è l'alveo naturale della discussione politica del Consiglio Comunale, ma voglio ricordare al Sindaco Mario Scarpitta che il gruppo di opposizione ha convocato più volte i consigli comunali così come è previsto dalla legge e i consigli comunali puntualmente non sono stati convocati entro i 20 giorni, avevamo chiesto dei consigli comunali per parlare della problematica del porto, avevamo chiesto ai consigli comunali per parlare della problematica dei parcheggi del Mingardo e guardate un po' il Consiglio Comunale è stato convocato dopo quattro mesi e mezzo, quindi voglio ricordare che noi continuiamo a svolgere il nostro ruolo di opposizione nel rispetto chiaramente dei ruoli, ma così come siamo rispettosi, sono rispettoso dei ruoli, allora voglio ricordare al Sindaco Scarpitta che lui deve affrontare questo problema, noi lo stiamo facendo, abbiamo incontrato già il dirigente scolastico che con molto garbo e molta precisione ci ha rappresentato la problematica del plesso di Camerota, però voglio ricordare che di questo problema lui ne era a conoscenza dall'8 di gennaio 2018 e soltanto il 20 settembre ha messo in atto un rapporto di prova sulla staticità del fabbricato che i risultati sono stati negativi, quindi per quanto riguarda poi le varie battute e battutine si preoccupa del mio destino politico, si preoccupa di vari aspetti che riguardano il mio percorso politico, allora voglio dire io il mio percorso politico lo svolgo con spirito di abnegazione, lo svolgo con la passione che mi ha sempre caratterizzato e per quanto riguarda poi la responsabilità, perché parla di nefandezza, parla di bugie, io voglio soltanto ricordare al sindaco che questo gruppo di opposizione composto da me, da Enzo Del Gaudio e da Sara Infantini durante il periodo estivo rispetto a tantissime problematiche e alcune di queste problematiche che hanno messo in cattiva luce il nostro paese e hanno messo a rischio il sistema turistico di questo paese, soprattutto con articoli pubblicati su quotidiani nazionali, sulle condizioni e sulla qualità delle acque per la perdita della condotta sottomarina, questo gruppo di opposizione ha avuto non solo la compostezza, ma il senso di responsabilità di andare dritto e di assumere un atteggiamento responsabile del silenzio, ma tutto questo nel rispetto e nell'interesse della nostra comunità, perché in questi casi non bisogna denigrare come qualcuno e lo voglio ricordare anche a te che nel passato quando sedevi dai banchi dell'opposizione pubblicavi degli articoli che infangavano, anche se il problema c'era, così come c'è stato quest'estate, però non ti sei risparmiato, non ti sei risparmiato a mettere in evidenza alcune problematiche che danneggiavano in quel momento il nostro territorio, danneggiavano che trovavano l'immagine della nostra località turistica che già quest'anno ha visto con grande fatica recuperare sicuramente un trend negativo diffuso su tutti i comuni cilentani, ma Camerota ha vissuto forse una delle stagioni più brutte dal punto di vista dei dati degli ultimi anni. Quindi noi su questi argomenti ci ritorniamo nelle prossime settimane e voglio ricordare anche ai telespettatori che il sottoscritto è disponibile per Paolo Guzzo, perché così amo essere chiamato dagli amici e dai conoscenti, è disponibile e non ha l'arroganza. Io ho innanzitutto una dote che mi riconosco che è quella dell'ascolto. Sono disponibile per qualsiasi problema e chiaramente senza l'arroganza che caratterizza qualcuno e sta mettendo in serie difficoltà. Allora io dico siamo in un paese libero, siamo in una comunità che per quanto riguarda la libertà e la democrazia può dare lezioni a tanti altri paesi, quindi da questo punto di vista vi dico state tranquilli per quanto mi riguarda il mio impegno e la mia passione rispetto alla politica e alle problematiche, così come quella della scuola, lo affronteremo con senso di responsabilità, ma soprattutto cercando i canali giusti, così come avevo già detto in precedenti puntate, il comune di Centola è un esempio rispetto alle progettualità e ai finanziamenti. Basta pensare che qualche giorno fa il sindaco di Centola, l'amico Carmelo Stanziola, ha avuto un finanziamento per il risanamento dell'arco naturale di oltre 3 milioni di euro e nel contempo 5 milioni di euro e nel contempo ha avuto garanzie sul rifinanziamento di un progetto che riguarda anche Camerota per 3 milioni di euro. Allora questo è la buona amministrazione. La buona amministrazione è l'amministrazione che ha la capacità di progettare, ha la capacità di mettere in campo le conoscenze tecniche, ma soprattutto di reperire finanziamenti che sono funzionali alla crescita del Paese. In questa amministrazione invece si cerca ogni volta di additare la colpa ad altri, ma io voglio ricordare ancora una volta che il sindaco Scarpitta ha una militanza politica di 9 anni, quindi non è un novello della politica, è seduto nei banchi di maggioranza e di opposizione e poi è diventato sindaco del comune di Camerota. Oggi da sindaco lui ha la responsabilità e il dovere di prospettare le soluzioni rispetto ai problemi, non di continuare ad infangare chi non la pensa come lui e chi invece obietta su alcuni problemi, ma soprattutto sull'approccio di alcuni problemi. Parla di una rivoluzione, parla come se per esempio un altro dei progetti ereditati che cita quello dell'informatizzazione dei plessi scolastici, ma voglio ricordare che questo è un progetto che ancora una volta è ereditato come tanti progetti, come l'impianto di depurazione e tanti altri progetti e lui oggi si attribuisce il merito di cose che non fanno parte del suo bagaglio politico, non fanno parte del suo modo di amministrare. Quindi io vi ringrazio, ancora una volta ringrazio Cilento TV per averci offerto la possibilità di dire la nostra su alcuni aspetti politico-amministrativo e ci saranno le altre puntate nelle quali continueremo ad informare i cittadini del comune di Camerota. Grazie. Grazie.